In questo numero, la Regione Toscana distribuisce un milione e mezzo di mascherine anti-Covid gratuite al giorno ai cittadini nelle farmacie e nei supermercati per un mese. Cig in deroga presentate 27.000 domande da parte di altrettante aziende toscane per un totale di 67.000 lavoratori interessati. Attività turistiche all'aperto, cura degli orti e selvicoltura, due ordinanze della Regione hanno autorizzato queste attività ma da alcune condizioni per rispettare l'enorme anticontagio. L'app A Casa in Salute per lo studio di siero prevalenza, avviato dalla Regione sulle categorie dei cittadini a maggior rischio di contagio. Covid decolla su YouTube il progetto Leggere Forte della Regione. Per i più piccoli la piattaforma web L'Educazione 06 non si ferma. Lunedì 20 aprile è scattato l'obbligo in Toscana di indossare nei luoghi all'aperto, pubblici e privati, le mascherine di protezione dal coronavirus. In contemporanea, la Regione ha avviato la distribuzione a tutti i cittadini di un milione e mezzo di mascherine gratuite al giorno per almeno 30 giorni. I cittadini potranno ritirarle direttamente presso le 1150 farmacie e 230 supermercati, grazie ad un accordo siglato con Federfarma, Cispe e la grande distribuzione. Noi, come sapete, abbiamo preso la decisione di distribuire gratuitamente le mascherine a tutti i cittadini. La distribuzione è già iniziata grazie ai sindaci, grazie al volontariato, casa per casa. Adesso vogliamo estendere la distribuzione ai cittadini utilizzando anche il canale delle farmacie e il canale della grande distribuzione organizzata, insomma, dei supermercati di varie dimensioni. Ogni cittadino potrà ritirare un pacchetto di 5 mascherine in un mese per un massimo di 30 mascherine. L'obiettivo è raggiungere in modo capillare tutti gli abitanti in Toscana di età maggiore a 6 anni e rendere efficiente e tracciabile la distribuzione dei dispositivi, riducendo anche i costi. Vi preghiamo assolutamente di non fare file, code, assembramenti che otterrebbero il risultato opposto. Ci sarà una mascherina quando c'è bisogno per tutti in questa regione, gratuita, quale presidio di prevenzione primaria. Voglio ringraziare particolarmente tutte le farmacie della Toscana che si sono dichiarate disponibili e anche la grande distribuzione. Il personale del servizio sanitario regionale che consegna le mascherine è stato adeguatamente formato per fornire ai cittadini informazioni sull'uso corretto dei dispositivi. Salgono a 27.000 le domande per la cassa integrazione in deroga presentate da altre tante aziende toscane in due settimane sulla base del decreto Cura Italia. I lavoratori interessati sono 67.000, con una prevalenza delle donne pari al 61%. Un flusso importante di domande che Regione Toscana sta istruendo e sta inviando all'Inps. Le province per cui le domande sono in quantità più elevata sono Firenze, seguita poi da Lucca e da Pisa. I settori sono i settori del turismo e del commercio che insieme rappresentano oltre la metà, quasi due terzi, delle domande complessive. La Regione Toscana ha inoltre esiglato un accordo con l'ABI, sindacati e le associazioni dei datori di lavoro affinché le banche concedano ai lavoratori un anticipo della CIG a costi a tasso zero, attraverso una procedura semplificata. Affinché il lavoratore possa ricevere l'anticipo sulla cassa integrazione, quindi anticipare l'erogazione rispetto ai tempi dell'Inps, basta che dimostri che la sua azienda ha attivato l'ammortizzatore. Quindi una procedura ancora più veloce e garantita anche da Regione Toscana. Un'ordinanza del Presidente della Regione Rossi ha autorizzato lo svolgimento dei lavori di manutenzione delle attività turistiche all'aperto anche durante l'emergenza Covid. I titolari di stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici, parchi di vacanza, aree di sosta, potranno quindi accedere alle strutture per svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, previa comunicazione al Prefetto e fermo restando l'obbligo di rimanere chiuse al pubblico. L'ordinanza stabilisce anche che le attività di consegna dei mezzi navali già allestiti possano essere effettuate previa comunicazione al Prefetto e che il 25 aprile e il 1 maggio i negozi resteranno chiusi ad eccezione delle farmacie e delle edicole e delle consegne a domicilio di generi alimentari. Un'altra ordinanza regionale ha dato disposizioni per lo svolgimento dell'agricoltura amatoriale e della selvicoltura nel rispetto delle norme di sicurezza per contenere il contagio del Covid-19. La coltivazione di orti e l'accudimento degli animali allevati sono così consentiti ma nell'arco della giornata può essere fatto un solo spostamento al giorno all'interno dello stesso comune o verso altri comuni e da non più di due persone dello stesso nucleo familiare. Quindi si dà la possibilità con questa ordinanza pur nel pieno rispetto delle norme vigenti in ragione sanitaria di potersi spostare per poter fare a livello amatoriale quindi i famosi obbisti tutte le produzioni agricole quindi chi ha delle proprietà per poter fare orti chi ha dei terreni per poter fare qualsiasi tipo di attività agricola che serve all'autoconsumo familiare quindi serve al sostentamento delle famiglie ha possibilità di farlo. Dal 14 aprile il Governo ha autorizzato la ripresa della selvicoltura e così la Regione ha provveduto a prorogare di 15 giorni il periodo del taglio a patto che gli spostamenti vengano effettuati una volta al giorno da non più di due persone della stessa famiglia. La Regione ha autorizzato anche il contenimento della fauna selvatica in ambito urbano ma con l'accorgimento di effettuare la cattura o altri interventi in forma singola. La Regione Toscana ha avviato uno studio di sieroprevalenza sul Covid-19 e per meglio raccogliere i dati sulla diffusione della malattia ha messo a punto anche una app denominata Casa in Salute. La app non viene utilizzata da tutta la popolazione ma dalle strutture che svolgono gli esami sierologici e dalle categorie di persone più esposte al virus elencate in un'apposita ordinanza regionale come operatori sanitari, operatori delle residenze sanitarie assistite, membri del volontariato, farmacisti e forze dell'ordine. Cosa fa l'app? L'app consente di raccogliere quelle informazioni che normalmente quando si fa un prelevo di sangue non sono disponibili. In questo caso per lo studio è stato deciso di fare un semplice questionario anamnestico di contatto e soprattutto anche il ruolo perché per capire la sieroprevalenza sul territorio è necessario sapere se una persona ha ad esempio guidato un'ambulanza del 118 per trasferire dei pazienti oppure è un nostro operatore sanitario che in un ospedale ha lavorato in un'area Covid. L'app può raccogliere dati relativi a una sola persona oppure attraverso la modalità ambulatorio raccogliere informazioni su più soggetti. Nella app è presente anche la geolocalizzazione che chi usa l'app è libero di attivare oppure no e che rileva solo il luogo dove il test è stato effettuato. I dati vengono raccolti ed elaborati in forma anonima e trattati nel piano rispetto della privacy. Con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'emergenza coronavirus la Regione Toscana ha adattato a questa circostanza straordinaria il progetto di promozione della lettura ad alta voce leggere forte messo a punto con la direzione scientifica dell'Università di Perugia E così sono stati caricati su un canale YouTube a disposizione delle famiglie oltre 100 titoli di audio e video di letture ad alta voce adatti a bambini e ragazzi di varie età e sinora le visualizzazioni sono state più di 23.000 con una crescita del 200% in una sola settimana. Abbiamo pensato di mettere a disposizione degli audiotesti letti da educatori e da docenti delle nostre scuole proprio perché il nostro progetto che tanto successo ha avuto nei mesi scorsi possa continuare anche in una modalità di emergenza come quella che ci impone il Covid-19. Si rivolge invece ai bambini più piccoli la piattaforma web L'Educazione 06 non si ferma messa a disposizione delle famiglie dalla Regione Toscana per suggerire e proporre iniziative e attività educative anche da casa. I contenuti sono molto diversi canzoni, tutorial per piccoli lavori, filastrocche, giochi con la pasta di sale e concertini. Materiali che servono agli educatori, ai coordinatori pedagogici per mantenere seppure a distanza i rapporti con le bambine e con i bambini per mantenere i riti di quotidianità che di solito i bambini trovano a scuola e anche materiali importanti per la formazione a distanza e la valorizzazione di esperienze messe in campo da tante scuole di infanzia e da tanti nidi della nostra Regione. Grazie.